Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Clash of Clans, sul nuovo villaggio, sì, quello sul server particolare di Clash Royale, di Clash of Clans, scusate. Eccoci qua, nello scorso video abbiamo fatto il cannone gigante nel primo video, l'attacco con i Super P.E.K.K.A. Adesso non possiamo non fare l'attacco con le mongolfierozze, perché secondo me gasano un sacco. Vediamo se hanno mantenuto i progressi che avevamo fatto nello scorso Crash D. Eccoci qua, ha ripreso, ha ripreso, ha ripreso, va bene, volevo andare a vedere qua, speriamo non crash, non è crashato, a livello 16, sì esatto, abbiamo le mongolfierone già maxatissime, quindi l'idea è quella appunto di andare a vedere, non penso, allora intanto dobbiamo far così, guarda, destra truppe e le terminiamo, perfetto. Poi andiamo a cercare appunto il primo attacco. Suggeritemi ovviamente nei commenti cosa fare, cosa non fare, come farlo. Ok, voglio solo intanto andare a vedere i mongolfieri, come sono, quindi attacco con tutte i mongolfieri, vediamo che cosa succede, vediamo se effettivamente è forte, se non è forte, quanto è forte, com'è forte e perché è forte. Non ho la più palida idea se mi spaccherà male sta roba, cioè se il fatto che ci siano tutte sti cosi, ah non ce le fa cambiare? Non posso, ecco questa è una funzione che dovrebbero implementare il fatto che non ci possono far cambiare il tutto, quindi direi a sto punto, buttaci giù il mondo qui, andate a distruggere subito i peccaots, tara tara che tanti buttano giù subito, sono forti i mister pecca eh, e bam esplode il primo, sì sono forti, non sarà un attacco, ah non ho lanciato la macchina da guerra, non sarà un attacco proprio di quelli tipo devastanti, 1-1 punto esclamativo, assolutamente no, però, ah anche il martello è vero, bim, è una figata sto martello comunque, è tipo straforte, bam, di là fanno danni i pecca, ecco certo quei cosetti dann fastidio, esplode un altro pecca che fa un botto di danno, fanno danni i pecca, fanno abbastanza danno, purtroppo dobbiamo cambiarlo prima, abbiamo perso malamente, però vabbè, fotte sega, cioè, fotte sega, non so, ma neanche saremmo perso, poi, comunque non sono abituato ad attaccare con queste cose, intanto rifacciamo tutto l'esercito e però andiamo la sto punto a cambiare, dato che potremmo, tranquillo, ah dobbiamo prima far così, toglierli tutti, tutti gli slot, e poi successivamente andarli a riempire di nuovo con questi qua, utilizziamo 20 gemme e abbiamo le mongolfiere pronte, ok, quindi con le mongolfiere pronte già potremo pensare di andare a fare qualche attacco, voglio intanto verificare comunque che il server funzioni e che risponda bene, mettendo, magari facendo qualche altra costruzione, per esempio dei petardi, potremmo già mettere dei petardi, dato che siamo in tema aereo, finirli di costruire e vedere se effettivamente funzionano oppure ci danno, cioè, se il server una volta che fai gli attacchi non ti salva le ultime modifiche, intanto ci mettiamo poco a portare su i petardi, fino a questo livello ce li avevamo portati su, adesso il livello 6 non l'ho ancora visto, ah no, sì, in verità l'avevo visto su qualche villaggio extra, il livello 7 è ancora non disponibile, molto particolare, il livello 8 sarà sicuramente in me e ora, infatti, come quello che avevamo visto, ok, ci siamo, andiamo a fare l'ennesimo attacchino, vediamo che cosa riusciamo a trovare, ricerca avversari in corso, non ci sono tanti avversari, questo fa attaccare tutti gli avversari, cioè, non è che ci sono avversari che ti attaccano, ti prepara la base e te la fa attaccare e basta, non è che, what the fucking crazy, 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 ok, è così, io le provo uguale, voglio vedere un po' come vanno, tac, allora, vediamo un po' come funziona, allora buttano giù scheletri, pesantemente, ah, ok, l'idea è quella appunto di buttare giù scheletri, è un'armata di scheletri infinita, praticamente sono una quantità incredibile e ne buttano giù, cioè, devono arrivare prima sul bersaglio e poi sganciarne, ok, ovviamente se non vengono uccisi creano una quantità di roba allucinogena, cioè, guardate quanti scheletri abbiamo attualmente, che poi gli scheletrini fanno tanti danni, quindi, cioè, tipo, ci sarà il mondo là sopra, adesso devono appuntare tutti là, cioè, sono una quantità tipo infinita, appena arrivano quelli, tipo, la torta, fa, tipo, vuom, ci sarà questo che è praticamente distruttiva, dura 30 secondi, esatto, dura da 30 secondi, veramente, veramente figo, interessanti come cose, lanciamo anche questo, giusto per far vedere che sono figo e c'ho la macchina da guerra pesante, 100% ma era scontato. Capito un po' come funzionano queste mongolfiere, direi di riprovare con l'ennesimo attacco, tanto oggi, appunto, siamo qua per provare e riprovare attacchi e vediamo, appunto, come va con queste fantastiche mongolfiere. Speriamo di trovare un avversario che sia... ok, questo ha già qualcosa. Voglio vedere come funziona un attimo del tipo, se io lancio le mongolfiere da qua, perché dobbiamo partire, dobbiamo distruggere necessariamente delle mura, se vogliamo utilizzare degli scheletrini, oppure loro la sganciano direttamente, cioè se io lanciassi una mongolfiera qua, non sgancia, non scarica, ok? Quindi l'idea è proprio quella di partire da qua, tipo, e iniziare a sganciare roba pesantemente e far partire tutti i simpatici amichetti. Ci metti dentro ovviamente questo che ti danno a mano. Ora, all'inizio è un po' un casino probabilmente per quanto riguarda gli scheletrini, eccolo qua, che sono iniziato ad attaccare. Loro tankano tutti, non tankano le difese aeree, ma è morto già il coso, veramente? Ah, questo è un casino lo spintone, eh, giustamente, non ci pensavo adesso che però... Eh, serve, cioè ce li spacca malissimo, li spacca veramente male, ok che non ci... Ok, partiti, distrutti male, bene, molto bene. Allora, c'è la maga Tesla che fa i danni forever, forever and ever. Il cannone fa danno singolo, quindi non ci preoccupa con questa tecnologia, con questo sistema. Anche gli arcieri e tutto il resto moriranno in tempo breve. What the fuck? Ogni volta che esplode una mongolfiera vengono fuori, partono mille e mille cose. Allora, tentiamo di spaccare anche la Tesla, che se tankano gli scheletrini, vedete qual è il punto, no? Se tankano gli scheletrini è buono, perché ovviamente le mongolfiere ne creano altri. Se iniziano ad attaccare le mongolfiere è un po' un problema. Vedo che comunque l'attacco è forte, è una bella truppa sicuramente. Di gente ne muore, però ovviamente più scheletrini riescono a spawnare, la forza cala. Ovviamente continuando a fare così, la forza cala sempre più perché non riescono a spawnare nada. Il cannone, guarda, è forte tanto, eh, comunque. Tac. Abbiamo fatto il 48%, quasi il 50%. Ci sono due mongolfiere li impegnate a distruggere... Oh, ce l'hanno fatta a distruggere il cannone. Adesso, distruggendo questi, potremmo fare anche il 100%. È stata dura, faticosa... Oh, questi, questi sono fotonici? No, una volta che hai messo tutti gli scheletrini, in verità la difesa... La difesa quella aerea, le bombe aeree, non fanno più di tanto. Perché, guardate, questo è partito, distrutto, siamo al 92% ed è fatta. Non era un villaggio straformato chissà quanto, per carità. Però, ha reso, l'effetto c'è stato e gli scheletrini hanno fatto il loro dovere. Quindi, parliamo, nella strategia non è male, è buona, loro sganciano e superano le mura tirando truppe aeree. Ed è questo, appunto, il vantaggio di utilizzare queste truppe. Cosa che non avevo fatto, ho notato con piacere. I petardi sono rimasti, quindi vedo che il server funziona bene. Potremmo tirar su un'altra difesuccia, un'altra difesuccia, che possiamo tirare su, che possiamo portare su. Ovviamente la Megatesla la faremo in un video a parte. Potremmo, potremmo, potremmo portare il posto di guardia, l'ho fatto. Il mortaio, già l'ho fatto, le bombe, sì. Eh, bombe contro aeree, rimanevo in tema proprio di truppe aeree, sia difese che con gli attacchi. Così mi guardo anche tutte le varie coreografie, sono curioso un po' che le ho viste, perché alla fine... Ma sono più belle queste legnose, cioè è più bello, secondo me, tutto sto legno così particolare, no? Perché sennò è simile sempre, come vi dicevo, a Clash of Clans. Dopo un po' perde, secondo me, di aspettativa, perché è tutto uguale. Guardate un po', già a livello 7 è dorato e a livello 8 viola, ma comunque sempre tutto dorato e tutto il resto. Le colorazioni d'oro, insomma, ce le abbiamo così, si va a colorazioni su Clash. E questo è quanto. Potremmo portare su, vediamo, vediamo un po' le risorse, gli estrattori, ma gli estrattori sono sempre quelli. Difese, beh, intanto la maggior parte delle cose sono concentrate in difese, perché, sì, la maggior parte del tempo lo perdi a creare difese su Clash. Potremmo creare, anche a questo punto, l'ultima tesla occulta da mettere qua vicino, tac, carina. Poi magari potremmo provare, perché no, anche una disposizione per il tono alli livello 8, livello 7, livello 8, scusate, livello 8. Magari con tutte le truppe maxate sarebbe figo vederlo, vedere l'effettiva forza e potenza di un tono alli maxato a livello 8, perché, cavolo, maxato a livello 8 già significa perso un sacco di giorni di tempo. E comunque è figo un botto. Qui ecco la seconda tesla, ma anche per provarlo, magari poi successivamente lo potremo attuare noi sul nostro villaggio, semmai dovremmo arrivarci. Semmai dovremmo arrivarci. Quindi direi che potremmo fare l'ennesimo attacco, vedere se ci ha salvato tutte le varie modifiche che abbiamo fatto. E quindi via altro attacco, non funzionano ovviamente i claim, sì i claim, scusate, i rewards, perché non c'è lo scontro 1-1, quindi non è proprio proprio settato come gli altri server. Ovviamente è fatto bene, è fatto strabene, perché ti permette ovviamente di testare tutte le varie truppe che abbiamo. Oh, it's ok! Che cosa andremo a fare? Pesantemente l'idea è partire proprio qua in attacco e buttare giù più roba possibile. Ora qua ci metterei il coso che senza cavoli suoi inizia a spaccare il mondo. Ok, hanno già distrutto il calorifero, guardate la roba che ci distruggono. Andate a distruggere sì gli arcieri perché dà un fastidio boi. Allora lui sta intanto entrando piano piano, riuscirà ad entrare, voilà, distrutto male anche questo, distruggete la Tesla velocemente, grazie perché è la cosa che ci dà più fastidio attualmente. Distruggete il mortaio che è anche un'altra cosa abbastanza noiosa per tutti gli scheletrini. Ok, bam, perfetto, la macchina da guerra è iniziata, è già dentro a far danni pesanti, voilà, distruggete il cannone, distruggete il cannone veloce veloce prima che rispara. Ci ha distrutto un po' di roba, ora proviamo subito il fulmine, bam, botta, mamma mia quanto toglie ragazzi, il suo fulmine è eccezionale, non vedo l'ora di sbloccarlo appunto sul mio villaggio, davvero quello effettivo di Clash. Perché la sto portando sulla macchina, ce l'ho attualmente a livello 2, a livello 15 ovviamente non c'è paragone, però altro 100% molto molto easy. Fare 100% con le trutte al 16 è facile. Devo, dovrò trovare però tecniche d'attacco interessanti perché magari dovessi trovare un villaggio, voglio imparare proprio ad attaccare pesantemente ad alti livelli perché sarebbe figo vederlo. Voglio portare su anche tutte le varie truppe, potremmo portare su a sto punto, la prossima truppa con cui potremmo attaccare, quello è il livello, già il limite massimo, livello 1, ok. Potremmo portare su a sto punto questa regina qua perché l'ho visto che si sta utilizzando da un sacco, è molto molto tosta, molto molto forte. E quindi l'idea sarebbe maxarla, vedere davvero come vanno questi pipistrelli, quanto fanno. Adesso è la carta che si utilizza di più in tech ad alti livelli su Clash of Clans, l'ho vista spesso utilizzare in alcuni attacchi in top. Comunque ragazzoli, penso che per questo video possa tranquillamente essere tutto e vi ringrazio tantissimo. Per la visione vi voglio lasciare mi piace, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se avete fatto di condividere il video su Facebook e fammi uscire le persone. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo server, che attacchi volete vedere, se volete vedere la strega notturna, tutto il resto, i pipistrelloni, i cannoni, tecniche d'attacco particolari. Insomma, fatemi sapere che cosa vorreste vedere. E detto questo, seguitemi su tutti i social Facebook, Instagram e Telegram e noi ci vediamo come al solito. A un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.